Ciao, sono Giovanni Villani di Letture Metropolitane. Il video che hai scelto sta per iniziare, ma prima ti invito a iscriverti a questo canale, attivare se vuoi la campanella, ma soprattutto a farci sapere nei commenti quale talk puoi vedere prossimamente, in modo da poterlo montare e pubblicare nel più breve tempo possibile. Puoi scegliere tra i 18 incontri di questa decima edizione. Inoltre, trovi già moltissimi panel Lexio Magistralis delle passate edizioni. Ti auguro una buona visione. Ciao! Buonasera a tutti e benvenuti al quarto talk di ARF di oggi. Questo talk è dedicato a due street artist, due fratelli di ARF che condividono con ARF la stessa base nel villaggio globale dove c'è questo fermento artistico nel quale da ieri, o l'altro ieri, mi si confondono i giorni, abbiamo inaugurato la mostra Falastinurra per raccontare, in cui i fumettisti raccontano quello che sta avvenendo in Medio Oriente. La potete vedere gratuitamente qui al villaggio globale. e proprio Solo e Diamond sono gli artisti a cui abbiamo fatto una richiesta particolare quest'anno che li ha resi centrali dentro questa decima edizione di ARF. Però ve ne parliamo insieme e intanto vi chiedo il più forte degli applausi per Solo e Diamond. benvenuti ragazzi, prego, prego, tanto sono tutte e due scomodi, quindi scegliete quello che apparentemente sembra meno. Scusate, avete, se non mi sbaglio, avete applaudito per Solo e Diamond. Io vi chiedo un altro applauso per Solo e Diamond, per favore. Allora, benvenuti, benvenuti, e vi dicevo quest'anno con loro abbiamo fatto una cosa. Li abbiamo chiamati un giorno, visto che tanto ciclicamente, noi dovete sapere che ogni giovedì abbiamo una riunione di ARF. E quindi stiamo qui alla CAE, dove ora ci sono i bar e dove andate a rilassarvi. Noi stiamo lì tutti i giovedì mattina a fare riunione su come provare a rendere bellissimo il successivo ARF. E puntualmente spuntano loro tutti i zozzi di tintura, di cose, perché stanno tornando da aver fatto un muro in Russia, oppure da essere quasi morti sopra un trabattello a cento celle. Insomma, voglio dire, raccontano le loro disavventure. Così un giorno abbiamo detto, sentite, però vi vogliamo proporre una cosa. Loro hanno detto, che cosa? E noi abbiamo detto, noi vorremmo, siccome ARF nasce con la missione di portare il fumetto lì dove magari ancora non è arrivato, e voi invece lo avete già fatto, perché Solo e Diamond da anni portano la loro arte sui muri di Mezzomondo, tra cui una celebrazione costante anche del fumetto, come vedremo tra poco. Gli abbiamo detto, volete fare voi il manifesto della decima edizione? Un manifesto particolare, variant, come si usa nei fumetti, cioè quindi le variant speciali, perché noi vorremmo che il manifesto della decima edizione di ARF fosse proprio su un muro. E loro ci hanno risposto... Ora io lo ridoppio, hanno detto, certo! Dice, è quello che sappiamo fare meglio, hanno risposto. E abbiamo passato una settimana nel modo che adesso vi facciamo vedere. Per cui abbassate le luci e pompate la musica. Come vedete, come avete letto, questo murales è stato possibile grazie all'aiuto, al sovvezionamento del municipio primo di Roma Centro, perché comunque vivendo a Roma non è che puoi intaccare l'assetto urbano senza ovviamente chiedere permessi e comunque farlo in collaborazione. Questo che avete visto adesso, che è il manifesto, appunto, variant della decima edizione di ARF, è un murales che sta veramente a Via Calvani, lo vedete qui fuori, uscendo dall'entrata principale del mattatoio, continuando nella sala dritti sulla sinistra. Che era un po' il modo più bello che ci sembrava per festeggiare questi dieci anni su questo territorio. Per cui innanzitutto vi dico io grazie. E grazie a voi! Allora, parlare davanti a voi con Solo e Diamond è una cosa che a me mi riempie di... Cioè mi fa proprio ridere, perché noi di solito parliamo in situazioni proprio scacciati i mezzi per terra, buttati da una parte, e invece qui siamo tutti precisi, no? Se vuoi mi butto per terra. Eh, io starei un po' più a mio agio. No, però, allora, ragazzi, come è nata questa cosa e soprattutto come ha preso quella forma lì? Domandone. Vai, vai. Allora, come hai raccontato, intanto ciao a tutti, grazie per essere passati a trovarci. E come hai raccontato nasce dalla vostra proposta che ci ha riempito di orgoglio e di gioia. E poi, appunto, abbiamo cominciato a confrontarci sia con voi che fra noi due per capire un po' qual era l'idea, la forma che volevamo dare tutti quanti al manifesto Variant. e abbiamo scelto di omaggiare le nove locandine precedenti, delle nove edizioni precedenti. Scusami un secondo, mettete l'immagine, quella statica dell'incontro, così si vede la locandina di lato e il pubblico capisce meglio di quello. Eccola, quello lì. Avete deciso di omaggiare. Abbiamo deciso insieme di omaggiare le nove locandine delle edizioni precedenti e nei termini di rivedere un po' quali erano i soggetti che erano stati rappresentati dagli altri grandissimi artisti che hanno fatto questo lavoro prima di noi e quindi abbiamo fatto prima una selezione dei personaggi e poi li abbiamo incastonati all'interno di questa X che faceva un po' una doppia funzione che era sia quella di rappresentare il 10, che è appunto la decima edizione ma anche quella di dividere il muro in quattro vignette come appunto fosse la pagina di un fumetto. Sì, perché quello che forse anche il pubblico di Arf più affezionato non ha mai notato è che quando diciamo che Arf tutto è fumetto è proprio da prendere alla lettera come frase nel senso che anche i poster sono un fumetto. Se voi riguardate adesso i poster di Arf dalla prima edizione a quest'ultima raccontano una storia. raccontano una storia perché quello che noi abbiamo detto ai disegnatori che li hanno realizzati è stato quello di proseguire quello che avveniva nella vignetta poster precedente per cui se andate a riguardare il primo realizzato da Gipi Gipi aveva disegnato due omini che superavano un fiume per arrivare in una città in lontananza il secondo poster fatto da Lorenzo Ceccotti ha visto arrivare quei due stessi omini dentro la città davanti al gazometro in una Roma post-industriale dove c'era questa lupa gigantesca questo lupo in realtà è un maschio gigantesco che ha dei pennelli in mano il terzo è stato realizzato da Sara Pichelli Sara Pichelli ha fatto un contrapponto al lupo ha disegnato una cappuccetto rosso in una Roma dei fori imperiali e siccome dal primo poster Gipi aveva messo un balloon vuoto vicino ai due pupazzetti nella seconda Lorenzo Ceccotti ha trasformato quel balloon vuoto nei balloon di fiato che uscivano dalla bocca del lupo nella terza Sara Pichelli ha preso la lettera al termine balloon e ha messo nelle mani di cappuccetto rosso una serie di balloon, di palloncini Alessandro Barbucci nel quarto poster ha disegnato la stessa cappuccetto rosso di Sara Pichelli che portava questi balloon a una gigantesca papessa simbolo appunto di un altro aspetto di Roma Palumbo nel quinto poster ha deciso di ribattere dalla papessa ha disegnato una figura quasi di un diavolo mefistofelica proveniente da un vecchio film di Fellini in cui si vedeva anche l'acquedotto romano che ha disegnato lì reintroducendo i due pupazzetti disegnati da Gipi e la lupa di Ceccotti e così via finché siamo arrivati alla cacciatrice che ha disegnato Nicoletta Baldari nella penultima edizione e se vedete Solo e Diamond riadattandoli con il loro stile hanno messo appunto la cappuccetta rosso la cacciatrice, il lupo, la papessa, il diavolo e vi faccio vedere questa chicca notevole hanno messo anche i due pupazzetti che mise Gipi dieci anni fa ma se andate, ora qui la vedete piccola ma se andate a vedere il murale Sabbia Calvani li hanno disegnati con le loro fattezze come a dire che fin dalla prima edizione eravate voi quei due l'abbiamo scoperto dopo dieci anni e l'ho svelato il mistero però sentite, siete arrivati subito a questa proposta o ne avete avuto varie? cioè l'idea, per esempio l'idea di avere la X come bignetta allora quella subito perché ci faceva impazzì perché ci dava già un'impostazione del disegno e ci facilitava subito l'idea poi come potrete vedere all'interno della mostra qui a ARF ci sono i bossetti originali in bianco e nero e quello è stato subito l'asset e giustamente dovendo far combaciare l'idea con un muro fisico reale da lì insomma abbiamo cominciato un po' a battere i denti perché abbiamo detto ma qua che facciamo? perché dipendeva da ciò che avremmo incontrato fisicamente ovvero al muro che ci avrebbero assegnato che fino all'ultimo non sapevamo quale sarebbe stato ci sono stati dei colpi di scena tipo è lì, no è lì, no è lì plot twist a non finire e per fortuna poi alla fine è sbucato quello che insomma dal formato che noi preferiamo di più che è il rettangolone verticale e da lì si è risolto tutto da solo perché appunto in una seconda versione riveduta e corretta combaciava tutto perfettamente i quattro angoli la X al centro e i personaggi distribuiti in maniera speculare e sentite io prima ho raccontato abbiamo passato una settimana insieme in realtà ci è voluto un po' meno tempo raccontateci un po' quanto ci vuole cioè io lo so però lo raccontiamo a loro quanto ci vuole per un murales del genere? una settimana a volte un po' meno tempo ma in realtà è vero come vi dividete voi il lavoro? come funziona? in realtà è vero no e allora il tempo dipende dalla dimensione del muro ovviamente e mediamente appunto quello che è una settimana poi poi si forrà un po' di giorni se il muro è più grande noi siamo sempre in baglia del meteo sì in baglia del meteo però mediamente appunto quattro piani una settimana più aumentano i piani di altezza più aumenta il tempo ovviamente se è più piccolo è meno tempo il lavoro non lo dividiamo ovvero noi come avete visto dal video siamo tutte e due sul cestello sulla gru e lavoriamo insieme quindi non abbiamo dei compiti divisi ma andiamo facciamo come facciamo a zone cioè andiamo con la gru in una parte del muro e su quella parte lavoriamo tutte e due insieme facendo insomma quello che c'è da fare la stessa cosa non abbiamo dei compiti tipo uno i colori uno l'outline e facciamo come se fossimo una andiamo a stampante così che io noi infatti ce ne siamo resi conto e ci ha preso un colpo perché penso a noi cioè di solito quando i disegnatori lavorano insieme uno si occupa di una cosa e uno di un'altra ricordo ancora lo scalpore che fece anni fa quando uscì fuori la coppiata dei gemelli cestaro Raul e Gianluca che loro disegnavano Tex ora sono viettati copertinisti di Landog Raul e Gianluca disegnano uno le pagine di destra uno le pagine di sinistra e sono indistinguibili cioè quando tu vedi quelle tavole non pensi e io pensavo che quello sarebbe stato il massimo che vedevo ma vedere lavorare voi fa veramente impressione perché io non saprei di quale segno hai fatto te o quale hai fatto te cioè lavorate perfettamente in maniera armonica in squadra la regola è seguire il bozzetto pedisseguamente proprio da lì non ti puoi sbagliare da vicino si vede da vicino si vede cioè io perlomeno riconosco però io ti aggiungo però da vicino si vede e però in realtà quello che diceva lui è vero ed è fondamentale che quando noi arriviamo sul muro è tutto già deciso non ti puoi inventare niente non puoi mettere lì a improvvisare siamo solo degli esecutori in realtà è il lavoro di creazione dove magari ci sono dei compiti suddivisi e magari riconoscibili è prima poi una volta che siamo sul muro e dobbiamo campire insomma il disegno e quindi poi là è abbastanza intercambiabile quindi quella è un po' la fase finale che lo spettatore vede ma che in realtà per noi è già finito è il pre che è la parte insomma importante bene e appunto parliamo un attimo di questo pre se sul cestello siete paritari e fate tutto in maniera intercambiabile la fase di pre come ve la gestite di solito di solito no dipende allora non c'è un non c'è un format già deciso dipende dal lavoro mediamente diciamo che c'è una parte di idea dove magari lavoriamo insieme e dipende a volte è venuta l'idea a lui a volte a me a volte insieme insomma costruiamo il mondo che dobbiamo rappresentare poi la maggior parte delle volte il disegno è affidato a lui che ha una mano molto più molto più felice della mia e io magari mi dedico più all'impacchettamento allo stare nelle proporzioni del muro al dividere i soggetti a geolocalizzare i soggetti nel muro a colorare gli spazi vuoti sulla composizione poi però a volte cambia però diciamo che il 90% delle volte il leader è questo qua allora a questo punto chiedo la regia se per favore può mandare insomma avanti un po' i lavori dei ragazzi perché comunque di solo e diamond c'è una mostra in questo momento ad arf che la trovate nel corridoio delle vasche proprio ad arricchire l'esperienza di artistale e area self in cui ed è una mostra un po' particolare perché era una mostra che andava a rievocare in qualche modo una sorta di città ideale fatta dei vostri dei vostri muri dei vostri palazzi se andate a vedere è molto bella avete una sensazione piacevole camminando perché vi sembra di camminare in un posto fatto solo di loro murales e quindi vi chiedo come è nata questa mostra che c'è adesso ad Arfa e se ce ne potevate parlare un pochino devi rispondere tu ma semplicemente è stata una sorta di celebrazione perché abbiamo raccolto un po' tutti i nostri lavori e insieme a Saskia abbiamo discusso quali fossero quelli più adeguati da esporre e abbiamo fatto appunto questo corridoio ha fatto Saskia di Fox Gallery questo corridoione in cui praticamente tu ti immergi totalmente in una serie di lavori infiniti e insomma in tanti in pratica se ci segui sui social più o meno li conosci tutti però vederli tutti insieme tutti di queste dimensioni in un ambiente dove magari appunto in tanti non ci conoscono ha fatto un bel effettone eh sì l'idea era quella nel senso che appunto nonostante il pubblico di Arfa sia molto affine a quello che noi facciamo poi in realtà non è detto che chiunque partecipi al festival poi conosce il nostro lavoro quindi l'idea era proprio quella di presentare il nostro lavoro non con delle tele o con delle opere pittoriche che comunque realizziamo ma proprio con le foto dei muri che sono quelle che hanno permesso ad Arfa di sceglierci per il manifesto variant eh sì diciamo che allora io conosco l'arte di Solo e Diamond da tempi non sospetti e ero proprio un appassionato delle loro cose addirittura mi capitava di andare ai concerti o in posti cui neanche andavo mirato magari per vedere cose vostre ma andavo a un concerto e vedevo una vostra opera e in un certo senso mi risuonava perché vedevo o i supereroi derelitti che disegnava Solo con questi supereroi presi sempre in momenti di debolezza o anche quando mettevi insieme le sequenze di vignette o mangiare delle vignette storiche del fumetto comunque in difficoltà che dovevano affrontare qualcosa oppure vedevo tutte le immagini di Diamond con tutti i rimandi all'art deco mi risuonava qualcosa perché era a differenza di di molti street artist come per esempio possiamo prendere visto che stiamo qua nonostante l'abominio che si è appena perpetrato cancellando l'opera di Blue lì al porto fluviale però per esempio Blue non mi ha mai risuonato in termini di fumetto o di estetica che può piacere anche a noi che lavoriamo con l'illustrazione o con l'immagine per quanto maestro mi piace da morire però non mi risuona quella cosa con le vostre cose sempre al punto che qua faccio tipo forse non tutti sanno che tantissimo tempo fa ormai credo quasi una decina di anni fa 8 7 di Orfani prima chi c'era abbiamo visto nel talk con Emiliano di Orfani la seconda stagione di Orfani a metà tutta in un'Italia post-apocalittica dove i protagonisti la risalgono da Napoli fino al nord e a un certo punto io dovevo passare nel Lazio avevo io una storia in cui i ragazzi si muovevano da quelle parti e decido di farli passare in un paese che è solo pieno di murales ed è proprio appunto quasi la città ideale così e mi ricordo che chiesi proprio a solo posso mettere il tuo simbolo una tua cosa qui dentro così e lui la mi disse tipo ma è scherzi io sto in fissa con i fumetti proprio mi piacciono da morire e da lì è nato un dialogo ti ero conosciuti proprio in quell'occasione se non sbaglio mi sa proprio così perché io gli scrissi dovevo dire sì che tu mi rispondesti no ma te mando gli sticker tutto e arrivarono a casa di mio padre quindi voi pensate da quanto tempo c'era manco Instagram mi sembra tipo roba di Facebook eh sì sì e quindi oggi siamo qui per questa cosa ma appunto partiamo un attimo visto poi che stiamo a D'Arf con i fumetti perché i fumetti i fumetti sui muri eh domandone i fumetti sui muri perché noi abbiamo iniziato tantissimi anni fa come appunto la tua storia testimonia quando ancora la street art non era una pratica così diffusa e e ancora ci si facevano delle domande quindi quando tu scendevi strada e dovevi fare qualcosa sul muro non essendo una cosa che tu avevi visto prima o comunque non tanto non c'era poi un esempio una strada da da ribattere quindi la domanda che è banale ma in realtà fondamentale era io su sto muro che ce faccio nel senso cosa porto cosa qual è il mio qual è il il valore che posso portare in più dipingendo questo muro e molto banalmente io facendomi questa domanda mi sono risposto che mi sarebbe piaciuto portare quello che mi sarebbe piaciuto vedere sui muri quindi da grandissimo appassionato di fumetti da molti anni prima di iniziare a dipingere ho detto certo sarebbe figo però se magari girando per strada e nel traffico oppure aspettando l'autobus o stando insomma in giro vedere dei palazzi di prodotti le vignette dei fumetti che più mi piacciono o comunque che più mi hanno accompagnato durante la mia vita e quindi da questa cosa abbastanza semplice e banale poi ho cominciato ad approfondire il concetto e ho visto che comunque aveva un buon riscontro anche perché casualmente il tutto è combaciato con l'avvento dei film Marvel al cinema e quindi diciamo che si è preso un posto binario in cui il fumetto è diventato molto più che mainstream e quindi poi insomma il resto ho continuato ho visto che andava bene ho continuato che c'era un buon anche risponso di pubblico nel senso che la gente capiva quello che io volevo dire rappresentando i fumetti sui muri e infatti questo ti volevo chiedere visto che forse non c'è un pubblico più ostile quando gli tocchi qualcosa di quello dei fumetti perché tu comunque non è che prendevi solo i personaggi dei fumetti tu li prendevi e mettendoli in determinati contesti e estrapolando quell'immagine da quello naturale in realtà facevi un racconto fortissimo in alcuni casi anche estremo oppure che metteva chi lo guardava a quasi una condizione di disagio perché comunque i supereroi hanno un elemento caratteristico che è infondere sicurezza invece tu li mostravi bastava proprio togliere a volte io impazzivo per il gioco che facevi perché era a volte riprendevi pari pari delle vignette ma tolte da quel contesto si capovolgeva al significato cioè non era più una vignetta di vittoria ma di sconfitta non era più di competizione ma di sopravvivenza quindi come ha reagito la gente? Tu ti ricordi un eccesso di reazioni tipo magari gente che invece era contentissima e gente che ti voleva la mena? Oddio allora io non sono famoso per la mia memoria quindi in realtà ho questa domanda così importante a bruciapelo su vent'anni di lavori non ne ho idea però in realtà quello che penso è che il fumetto è un è un alfabeto e un po' leggendo fumetti abbiamo anche tutti quanti imparato che tu con quell'alfabeto puoi un po' raccontare le storie che vuoi cioè superman è invincibile superman muore superman quasi muore per corpa del sassetto vero cioè insomma in realtà il supereroe poi è la cosa figa che si presta veramente a tutti i tipi di racconti e quindi anche magari in situazioni più di difficoltà forse secondo me sono proprio quelle quelle che poi ti fanno apprezzare il coraggio e l'essere supereroe perché se no se andava tutto bene che bisogno c'era di essere supereroe insomma scatta proprio quando invece va tutto male e quindi in realtà non mi ricordo delle non so come dire delle proteste o comunque delle cose proprio contro però invece ho capito appunto che essendo un alfabeto universale perché superman è superman in italia in america e ovunque era figo perché ovunque andassi a dipingere e poi alla fine magari non parlavamo neanche la stessa lingua con le persone che erano lì sotto il muro però poi alla fine almeno a me non mi capivano però almeno il muro lo capivano quindi questa è stata un po' la cosa secondo me che ha fatto in modo che dopo tanti anni ancora funziona ecco e invece Diamond tu sui muri con la tua commissione di stili da stencil pittura eccetera porti proprio la bellezza dell'art deco anche a dispetto dell'ambiente che noi stiamo dove si trova il muro in quel momento il contrasto esatto tu generi un contrasto incredibile perché porti la bellezza quasi dantesca dell'arte quella della rosa divina che vede alla fine alla fine dante proprio lì la trovi lì e sembra il concetto quello dell'arte deve essere tolta dai musei o deve essere messa agli occhi di tutti portato alle estreme conseguenze a me capita un sacco di volte di vedere faccio questo gioco ogni volta che vedo un'opera tua per strada poi basso lo sguardo perché puntualmente c'è qualcuno sotto che la sta a guardare o la sta a fotografare quindi mi parli di questa volontà di portabilezza perché è un qualcosa che a me più cresco e più mi sembra quasi l'unico dovere che c'è l'essere umano un dovere obbligatorio nasce tutto naturalmente dal clima familiare perché a casa mia ho questi due binari mio padre collezionista di fumetti tipo Linus Salter Frigider quindi su quel su quel versante io proprio impazzito sin da piccolissimo però poi c'è il binario materno che invece mia madre è appassionata di Art Nouveau quindi tutti i poster de Mucca tutti i vari Foli Berger quella roba l'ha attaccata sui muri proprio dentro casa ci sono cresciuto e io fino a una certa età proprio non me ne poteva fregare niente di niente di quella roba poi è arrivato il giorno in cui come diceva Flavio stai davanti al muro e dici io su sto muro ci dovevo fare qualcosa è riemerso totalmente tutto il background casalingo chiamiamolo così e tutto tutto quello che avevo assorbito a casa tramite i poster che aveva attaccato mia madre quindi sono andato a ripescare lo stile dell'Art Nouveau naturalmente mettendoci qualcosa di mio perché anche in questo caso non puoi prendere soltanto le vignette da fumetto non puoi prendere soltanto le milioni di illustrazioni già fatte un secolo fa da quei maestri dell'illustrazione e rifarle pare pare ci rimetti un qualcosa di tuo le cambi le modernizzi magari io a volte queste figure angelicate le tatuo sul collo diventano un po' più coatte un po' più moderne però rimanendo sempre in un ambito diciamo rarefatto che rimanga sempre molto decorativo e molto rilassante perché è anche un po' diciamo innanzitutto la cosa che mi ispira di più vedere un soggetto del genere su un muro gigantesco ma anche a livello pratico quando noi ci dobbiamo come dire imbattere con le istituzioni dobbiamo far approvare un bozzetto ormai abbiamo capito che non è che arrivi dici io faccio questo è un qualcosa di come dire molto moderato e di molto discusso prima e lo stile che piace a me per fortuna finora pare che piaccia quasi a tutti forse solo a Torbella Monaca si sono si sono lamentati ma perché alla solita bellissima donna floreale che avevo fatto gli ho messo un coltello a seramanico sotto la gola però era doveroso e qualcuno ha avuto da ridire sì purtroppo sì però ci sta insomma non possiamo mica zittire chi vi posso chiedere una cosa perché io credo che per chi non è dentro il mondo della street art ci stanno dei concetti su che cosa vuol dire essere uno street artist che sono un po' comuni a quelli che pensano che lo scrittore si sveglia la mattina indossando una toga greca e completamente nudo sotto guarda il sole e così e le parole si generano ci raccontate com'è la vita di uno street artist cioè come funziona non vogliamo deprimere il talk però come funziona fare un muro abbiamo sbagliato tutto abbiamo sbagliato tutto noi vediamo influencer tiktoker qui gente ho sbagliato tutto siete seguitissimi al fatto della film ma non è tanto per quello vediamo gente che in pochissime parole la cosa più più presente nel nostro nel nostro lavoro e che la gente immagina di meno è che è una forma d'arte è la forma d'arte meno libera che esiste perché comunque un lavoro del genere sul muro così grande tu non ti puoi svegliare una mattina e di ok io vado là e faccio il muro no devi avere un milione di permessi devi avere un sacco di nulla osta dal proprietario del muro che sia il comune che sia un privato e devi avere anche un budget importante perché insomma il macchinario costa tantissimo le vernici quindi è la forma d'arte meno libera che esiste perché ci sono tantissime persone che devono darti i permessi i fondi e la possibilità di poter fare quel muro ok in cambio e ovviamente o tu becchi un comitato illuminatissimo che dice no sei un artista fai quello che vuoi per noi va bene tutto e non voglio neanche vedere il bozzetto e ogni tanto è capitato oppure nelle peggiorissime delle ipotesi trovi tutta gente che quella mattina si sveglia chi le boni d'oliva e vuole mettere la di però sai sta mano ma sto verde ma facciamoci un ippopotamo e cento persone dove ognuna deve di asua quindi c'è questa forbice di bellissimo bruttissimo facciamoci un ippopotamo diventa il mio nuovo livello di revisione quando guardo una cosa quindi ecco diciamo questa è un po' la caratteristica poi ovviamente come dicevo prima noi facciamo mostre dipingiamo su tela facciamo tutta un'altra serie di cose serigrafia dove siamo liberissimi di fare quello che vogliamo e là per sfregio facciamo l'ippopotamo però la street art invece c'ha proprio sta cosa che devi essere molto molto bravo nel capire quello che loro vogliono però allo stesso tempo fare una cosa che sia tua che sia bella perché poi il nome lo metti te e quindi cerca di incastrare un po' tutte queste cose comunque è abbastanza faticoso ma inserendo anche delle simbologie che poi giocano a nostro favore chiamandole poi supercazzule perché comunque qualcuno ci sarà in dire ma quello che vuol dire ecco in questo caso non abbiamo avuto questo problema e sentite allora posto che ogni ragazzino vuole andare a fansegno su un muro quando è che avete fatto lo scatto dal ragazzino che vuole fansegno sul muro a no aspetta io voglio fare lo street artist cioè quando avete capito che quello era quello che volevate fare voi ma in realtà io già quando iniziavo facendo i graffiti che sono quello che per tutti è vandalismo io ci avevo già seguivo già una corrente quanti anni avevi scusa 13 anni c'erano già due correnti quantità e qualità io sono sempre stato per la qualità invece c'era gente che diceva non importa come lo fai lo devi fare e basta lo devi scrivere meglio 100 volte scritto male che 10 scritto bene fatto con tutti i grismi io già all'epoca dicevo no regà se io devo mettere il nome mio per strada lo devo leggere tutti deve spaccare deve essere fatto bene una diatriba regà che penso dura fino ad oggi però naturalmente poi mi sono discostato da queste dinamiche però ecco poi dopo varie difficissitudini quando ho smesso quei graffiti però ho voluto continuare a stare su strada mi sono detto tutto io ho anche cambiato nome cambiato tag c'è proprio Renato tutto quello che è stata una seconda identità esatto esatto Renato zero praticamente anche su quel versante lì non puoi permetterti di dire vabbè dai c'è provo improvviso vediamo come viene no là c'è una responsabilità una cosa fatta da te firmata da te sta per strada la vedono tutti deve spaccare quindi sull'estetica non abbiamo mai avuto nessun momento in cui tipo ma adesso che facciamo cambiamo come si fa la sicurezza deve essere quella e quando quanti anni avevi quando hai fatto il primo murales quando c'è stato diciamo il passaggio il passaggio ero già vecchiotto avevo una ventina d'anni cioè perché comunque sia è difficile staccarsi subito dal fascino del lettering però vedi pure che ormai ti sei appropriato di una tecnica con la quale puoi fare anche altre cose quindi alla fine magari vai sul figurativo poi da lì comunque c'è stata l'ondata primi 2000 c'è stata l'ondata stencil che era veramente era qualcosa di magnetico cioè tu non potevi non metterti lì veramente malato demente a ritagliare ritagliare io mi ricordo solo pomeriggi a ritagliare poi alla fine ti facevi questo cazzo di stencil e una volta che l'hai finito bam 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 la spruzzavo ovunque e lì comunque è una tecnica molto che cioè una volta che la capisci se fa così punto quindi per quanto possa essere affascinante dopo un po' ti rompi pure perché tanto è sempre uguale però quella là ti dà un'idea di come si fa una cosa di come esce fuori sai già come viene sai già che viene una bomba quindi esagere 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 poi da lì dici ok riprendiamo un attimo il pennello riprendiamo un attimo il pennarello la matita insomma c'è stato pure un po' un passo indietro rispetto alle tecniche perché poi dopo ti rompi a fare sempre la stessa cosa quindi sì insomma diciamo 98 e invece te c'è una rivista si chiama Skate che era scrausissima e io avevo rubato a un amichetto mio che andava sullo skate quel numero che parlava dei graffiti con due foto di merda con due graffiti di merda però cioè ti l'ho ancora conservata cioè quello è stato proprio il passo in avanti sì tu immagina tu immagina che già sono le prime volte che esci da solo quando c'è appunto 12, 13, 14 anni in più esci da notte a fare graffiti cioè una cosa tipo veramente manco nei film quindi graffiti graffitti tutto il tempo del liceo poi quali erano i bersagli i piombiti eh? i treni i treni quindi è vero l'immaginario dei treni i depositi diciamo che prima che sì comunque si uscìva pure prima di avere il motorino quindi non è che potevi arrivare nei depositi ai muri cioè insomma a quell'epoca era tu cioè non tutto cioè da sotto che dal portone di casa fino al deposito di Ciampino era tutto quello che potevi tutto l'arrivabile poi vado all'Accademia di Belle Arti dove lascio un po' al writing lascio un po' il tag comincio un po' a scoprire il figurativo il pennello la tela la pittura diciamo con la P maiuscola e per tutti i quattro anni dell'Accademia in realtà scrivo pochissimo mi dedico più ad altro faccio mi riappassiono a questo mondo totalmente nuovo per la seconda volta della tela delle mostre e del figurativo della storia dell'arte e poi niente uscito dall'Accademia in realtà questi due mondi sono fusi perché mi mancava la notte mi mancavano le bombolette mi mancava il muro mi mancava la strada però avevo acquisito una conoscenza e una capacità nella figura che era molto fica comunicare con una figura che tutti capivano invece che col tag lo capimo solo io e lui sì esatto perché i graffiti sono un mondo molto chiuso molto tribale cioè il graffiti lo capisce chi fa il graffiti il passante X non lo capisce quindi la cosa fica per me e per molti altri della nostra età o meno nello stesso periodo quindi primi duemila era appropriarsi del linguaggio della strada ma con la comprensibilità del figurativo quindi uniti due mondi bomboletta muro ma figura e non lettering senti immagino che le vostre prime due opere siano state sconfitte dal tempo nel senso che qualcuno ci ha fatto cose sopra o esistono ancora le vostre più antiche le mie sicuro no perché i miei primi erano poster perché ovviamente lavorando in maniera spontanea che vuol dire legale e non avevi tutto il tempo di andare lì a dipingere una settimana che abbiamo fatto noi ma dovevi dipingere su della carta a casa con tutto il tempo che volevi e in strada avevi solo quei 5 minuti che ti servivano ad attaccare il poster quanto risale l'opera più vecchia vostra che ancora c'era ed è visibile beh oddio quelle che ancora ci sono io ogni tanto mi taggano su una stradina di San Lorenzo dove c'è uno stencil vecchissimo proprio vecchio 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 quando dici vecchissimo intendi da ventina d'anni no ventina d'anni 15 vabbè io ho gli stencil del 2004 a casa alcuni invece sono ancora più vecchi sono del 2004 perché erano stencil su carta adesiva stanno pure lì vicino al raccordo diciamo mediamente una ventina d'anni e tu ritrovi ancora questi adesivi mezzi marci dove però si vede ancora Mr. T Bruce Lee tutti questi personaggi che ci facevano ride rifà stencil che ancora stanno là e si legge ancora il nome però aspetta hai detto ci facevano ride quindi parlando al plurale quindi voi già nel 2004 lavoravate insieme no 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 però diciamo che vabbè tu facevi lo stencil non lavoravamo insieme però lui andava in giro lui andava in giro vedeva quello mio io andavo in giro vedevo quello suo poi se sono capitato a casa sua io ho tappezzato la stanza come se fossi ancora per strada ma mi raccontate proprio questa brodellanza come uscita noi abbiamo avuto percorsi molto simili come abbiamo raccontato perché comunque la città è quella l'accademia è quella i quartieri sono quelli però in realtà non così come tanti conoscenti ci beccavamo di striscio serate io vedevo le cose sue del suo più dell'epoca e viceversa poi è successo che abbiamo cominciato a lavorare intorno al 2012 con una curatrice che è stata una delle primissime curatrici di street art a Roma e lei ci trovava appunto dei primi lavori insieme delle prime cose da fare insieme ci curava delle mostre sembrava una cosa molto seria e l'abbiamo cominciato a lavorare insieme e poi dopo qualche anno che anni erano scusami 2010 sì 10, 11, 12 calcola che abbiamo scoperto di aver fatto 10 anni tipo due anni dopo capito tipo mo abbiamo scoperto che due anni fa erano 10 anni quindi grossomodo era quello il periodo potete festeggiare oggi il decennale con due anni di ritardo eh capito che tra l'altro restate quindi mezzo che poi niente lei ha cambiato totalmente vita e totalmente vita tipo mo c'è una pizzeria sul mare a Malaga una cosa bellissima quindi a lei è andata bene investire su di voi a lei è andata benissimo non era noi e noi ci siamo trovati là e abbiamo detto abbiamo continuato a lavorare insieme perché comunque ci troviamo bene l'avventura l'avventura era iniziata cioè non potevi dire vabbè ciao noi comunque ci dobbiamo sempre imbarcare in situazioni avventure cose e a proposito dei situazioni in cui siete imbarcati possiamo raccontare al pubblico quali sono le avventure più bizzarre quali sono i vostri più lontani cioè le avventure vere che avete vissuto per realizzare cosa? vabbè grande classico grande classico come si chiamava quel treno? siamo andati in Russia con un treno che era un decimo della trans-siberiana siamo stati quattro giorni su sto treno che da Mosca andava a Satka andava a Satka che sta sugli Urali sui monti Urali tutti quanti ci hanno detto ma scusate ma perché non avete preso l'aereo? perché Google diceva che i Decoveri ne cascavano su due quindi agli organizzatori abbiamo detto ok da Mosca fino a Satka noi prenderemmo prenderemmo il treno loro ma perché? perché sì famo che sì famo che sì esperienza stupenda meraviglioso due giorni di treno in cucetta c'erano delle fermate intermedie in posti bellissimo che era Siberia non so e noi cucetta super bella comunque lusso comunque lusso tipo l'Orient Express c'è il vagone ristorante ma bello quello con le con le teghiere in argento c'era cosa stupenda c'era cosa stupenda c'è la 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 cosa stupenda ma poi c'è queste stazioni intermedie proprio sconosciute disperse tu scendevi a meno 5 in ciabatta fumare la sigaretta e poi risalivi e si ripartiva bellissimo e voi eravate lì per fare cosa? perché eravamo stati invitati inviati speciali inviati speciali del TGA a questo festival che si svolgeva appunto a Satka che è un posto assurdo perché è un posto dove straggono la maggior parte di magnesite magnetiche si può parlare? era prima facciamo finta che era un altro posto un altro paese cioè mi direi che più che altro il video che sta realizzando Giovanni glielo buttano giù perché è scoperto comunque era 10 anni fa ancora clima disteso rispetto a oggi tutti amici e sentite quali sono i posti del mondo dove è possibile trovare la vostra arte? a Roma moltissimo partiamo da Italia Europa Russia noi nominiamo nominiamo i posti Spagna Francia Olanda facciamo un facciamo tutto il grande abbiamo dato tanto il problema è capire se quella roba non si sa se ancora ci sta se si vede ancora dove l'avete fatto voi? vabbè appunto tutti i paesi europei Spagna Portogallo Francia Olanda Inghilterra Germania Repubblica cieca Repubblica cieca bellissimo Russia Russia e lui se ne è andato pure a New York io no io ho fatto New York poi ho fatto Miami il White Walls poi sono stato pure in Vietnam vabbè però il fatto è che c'era un momento felicissimo in cui eravamo giovani spensierati quando andavamo in vacanza rischiamo pure di cioè andavamo là con gli stencil e le bombolette andavamo a fare cose quindi al di là dei festival dove siamo stati invitati poi a lavorare modda vecchi che siamo pigli che non ci fa più di fare niente quando eravamo giovani magari capitava ti portavi il lavoro in vacanza la valigia stencil e le bombolette cose che oggi ma non esiste cose senza senso cioè le notte lì a fai stencil anche perché ragazzi devo dire una cosa voi avete visto il video fighissimo la musica eccetera ma quando questi stanno lassù e noi stavamo tutti tranquilli scialli sotto ma loro devono stare un'ora e mezza prima di fare una pausa stretti in quell'abitacoletto a disegnare comunque tu hai certo tutto per dire è una fatica fisica ma si ogni volta pennello poi ti ricordi l'Alpolline comunque sono stati brussi quei giorni non so se qualcuno si ricorda a Roma prima settimana tempeste di Polline ci siamo dovuti a un certo punto da un'accelerata perché a un certo punto il clima è cambiato ricordate c'è stato questo momento dei monzoni di Sud America da noi per cui nel giro dei 20 minuti c'era la pioggia tropicale poi dopo il sole estate e noi siamo arrivati pelo pelo li abbiamo finito voi avete finito proprio un'ora prima che il mondo esplodesse infatti noi sappiamo molto meglio guardare il medio che dipingere non so come dire noi siamo molto più bravi a capire il medio a fiutare la tempesta perché quello è fondamentale infatti mi ricordo che tu proprio dicesti no dobbiamo chiudere domani si si piove ormai così tra tre minuti tipo pescatore assurdo esatto tre minuti piove no ma il medio dice scel sole tra tre minuti piove io non vedo con questa luce il pubblico chiedo un aiuto ci sono domande per questi due artisti eccoci vi ho dato un anticipo due anni fa di mille pensa che bello ma quell'anticipo che fine ha fatto vi diedi 500 euro due anni fa ma io volevo chiedere quando c'è stato il passaggio diciamo da tra virgolette l'illegalità alla committenza nel senso Diamond da vent'anni ha iniziato con i murales però quando è stato il momento in cui allora è una storia molto lunga e molto triste quindi tenterò di riassumerla nella maniera più come dire meno triste possibile una parola una parola bevuta bevuta sono stato arrestato quando ero adolescente e quando facevo i graffiti appunto e insomma in un certo qual modo non è che ho avuto tutta sta voglia di ricominciare in realtà sì ho continuato però mi sono detto ok facciamo questa cosa in un'altra maniera perché se no finisce ancora peggio quindi ho affrontato lunghi anni di processo ho cambiato nome ho cambiato stile e ho cominciato a fare altre cose rimanendo però su strada e poi da lì la carriera tra virgolette è cominciata perché se ti occupi di voler esporre anziché voler andare a fare la metro una notte se ti preoccupi di voler conoscere qualcuno dell'ambiente che ti faccia esporre insomma così poi da là va da sé allora ragazzi io vi ringrazio per aver partecipato a questo talk ringrazio voi per averlo seguito e vi invito ad andare a vedere sia la mostra che sta nella galleria delle vasche davanti all'artistale sia ad andare a cercare al bookshop credo ci sia il libro di Abberrazio Mentalis esatto c'è il libro di Diamond e ringrazio per avervi seguito e spero che seguirete anche sui loro canali Solo e Diamond ragazzi grazie a nome di Arf per aver fatto il poster della decima edizione e per essere entrati di diritto nella storia di questo festival un applauso a Solo e Diamond e come al solito questo talk e tutti gli altri di Arf li potete vedere sulle pagine di lettura e metropolitane quando li caricherà Giovanni Villani quindi date il piloto a lui grazie